Sarà un processo lungo e complicato quello che vede alla sbarra in Corte d'Assisi a Chieti, Cosimo Nobile, Maurizio Longo e Natale Ursino, presunto esecutore complice e mandante dell'omicidio dell'architetto pescarese Walter Albi e il ferimento grave dell'ex calciatore Luca Cavellito il pomeriggio del 1 agosto di due anni fa sulla strada Parco a Pescara. Lungo perché secondo il calendario consueto dalla Corte d'Assisi, almeno in questa prima fase, non potrà essere fissata più di un'udienza al mese. Si tornerà infatti in aula il 30 maggio alle 9.30. Complicato perché il giudice Guido Campri dovrà ascoltare un centinaio di teste, di cui una sessantina da parte della pubblica accusa, rappresentata oggi dal procuratore capo di Pescara Giuseppe Bellelli e dal sostituto procuratore Andrea Giovanni, una quindicina da parte delle difese ed altrettante convocate dalla parte civile. Intanto pronti via già piccole scaramucce tra le parti su questioni meramente tecniche. un capo di imputazione suppletivo, oltre a quello di omicidio volontario premeditato e tentato omicidio, di ricettazione legato al furto e successivo utilizzo di due scooter e dell'arma usata per l'agguato. Diciamo niente di particolare, è un qualcosa che avevano dimenticato prima perché è conseguenziale. Nel momento in cui si contesta l'uso di una pistola, andava contestata anche la ricettazione della pistola. Quindi è qualcosa che viene di conseguenza, quindi hanno supplito ad una carenza precedente, quindi niente di particolare. Altro confronto, quello sulla missione di alcuni test. Dalla procura perplessità su un'indicazione generica riguardante il test numero 19 proposto da Cesare Precanica, avvocato di Natale Ursino, un tale emerso da alcune intercettazioni non ancora identificato e rintracciato e dalle difese dubbi sulla convocazione nella lista di test ed accusa di un consulente del RIS di Roma già sentito in sede di incidente probatorio. Sì, è una questione meramente tecnica, nel senso che il Pubblico Ministero ha chiesto di sentire ancora una volta il perito dei RIS di Roma che ha eseguito l'incidente probatorio, è stato nominato in sede di incidente probatorio e essendosi svolta quella fase in pieno contraddittorio non riteniamoci sia alcuna necessità di sentirlo nuovamente perché già si è tempiuto completamente in quella fase e non vi sono ulteriori emergenze istruttorie che giustificano una nuova escursione del perito in questa sede. Sarà un processo lungo e difficile? Assolutamente, ci auguriamo di giungere dove noi sappiamo che dovrebbe andare questo processo cioè verso la soluzione del Mimmo Nobile che è assolutamente estraneo a questa vicenda. E di questi cento test ammessi chiaramente tutto ruota intorno al test principale Luca Cavellito, unico sopravvissuto all'agguato. Sì, certo Luca Cavellito sin dall'inizio ha riconosciuto quello che secondo lui è stata la persona che ha sparato quindi sicuramente è un test importante, è l'unico che è sopravvissuto quindi sicuramente può chiarire tutta quella che è l'indagine espletata dalla PG e può chiudere effettivamente il cerchio.